rispondo io no grazie scatta segreteria che sei il ladro arroba c'è la bandana serve per sudore per sudore hai aprito nulla? non ho avuto tempo suona lei contro il fagotto? la conosci? suona anche mia zia mi faccia andare via lei mi fa paura perché? perché suona contro il fagotto con me mia zia vai via vai via vai via prendi questa roba prendi questo scatolone mettilo nel cassonetto capito? non lo lascia per la strada però capito? hai capito o no? allora rispondi no? hai anche maleducato arrivederci arrivederci grazie